Oggi pomeriggio, guardando le montagne a nord, ho deciso di visitare Capodiponte. Esso conta 2500 abitanti, situato a metri 362 sul livello del mare. È attraversato dalla statale 42 del Donale, confina con diversi comuni, a est Paiscola Veno e Dono San Pietro, a nord Sellero e Paspardo, a ovest Cinvergo, a sud Ceto e nuovamente Dono San Pietro. Il paese si inserisce nel sistema delle incisioni rupestri della Valle Camonica. Capodiponte deve il suo nome alla posizione geografica di alcune case poste a occidente del ponte sull'Oglio, verso la frazione di Cemmo. Il paese è attraversato da nord a sud dal fiume Olio, nel quale si immettono il torrente Clegna, proveniente da ovest, e il torrente Re, proveniente da est. Vedo la parrocchiale di San Martino, riedificata nel secolo XVIII con colonna in pietra di Sarnico. Ci sono parecchie attività per lo shopping, basta allontanarsi di pochi metri dalla strada, per gustare la pace e riempire i polmoni della salubre aria del luogo. Massimo Computer, Personal Computer, assemblati e accessori di tutte le marche, assistenza tecnica di Sebastiano Bricioli 2. Rivetta Savina, edicola Libreria Cartoleria di Italia 26. Fiori e sogni da Elda, via stazione 3A. Frutte e verdura, Macrimirella, via stazione 24. Impresa di pulizia di Macri Deborah Clean. Posizionamento cere metallizzate, trattamento cotto e marmo, 10 sentieri 11C, telefono 340 50 93 866. Io vi do una bellissima notizia. Qui sono stati inventati un nuovo tipo di arte, si chiama il graffiato. Il graffiato è un'arte ecologica, prima di tutto è un mio pensiero, poi siccome non ho visto altro penso che sia una mia invenzione, io cerco sempre l'originalità delle cose. Autocenter Parolini, multimarca, organizzato Fiat, vendita e assistenza, auto e fuoristrada, nuovo e usato, via nazionale 22. Spazio Cisva, basta scelta di formaggi e latticini, via Sebastiano Briscioli 40. Spazio Cisva, basta scelta di formaggi e latticini, via stazione 24. Via Roma 7 Zanetta Alimentari, gastronomia, produzione propria, salumeria, via Italia 77 Spazio Cisva, basta scelta di formaggi e latticini, via España 77 Hotel Cumeli, tavola calda, pizzeria, bar, caffetteria, happy hour, via stazione 1. Pizzeria d'asporto Magui, gustose pizze, via Sebastiano 32, servizio a domicilio, telefono 0364 42 60 46. Pizzeria d'asporto Magui, gustose pizzeria, happy hour, via stazione 1. Pizzeria d'asporto Magui, gustose pizzeria, happy hour, via stazione 1. Pizzeria d'asporto Magui, gustose pizzeria, happy hour, via stazione 1. Pizzeria d'asporto Magui, gustose pizzeria, happy hour, via stazione 1. Pizzeria d'asporto Magui, gustose pizzeria, happy hour, via stazione 1. Pizzeria d'asporto Magui, gustose pizzeria, happy hour, via stazione 1. Pizzeria d'asporto Magui, gustose pizzeria, happy hour, via stazione 1. Pizzeria d'asporto Magui, gustose pizzeria, happy hour, via stazione 1. Grazie a tutti Grazie a tutti